Lo psicoterapeuta Eric Meisel afferma che con grande probabilità quello che amavamo fare di più da piccoli è anche quello che amiamo fare da grandi. Un mio amico da piccolo amava vendere per pochi soldi alcune magliette ai suoi compagni di classe. Vendere lo faceva stare bene. Non è un caso che ancora oggi, a distanza di anni, lui ami vendere e che abbia creato un proprio e-commerce.